Con la crisi energetica arriva la stretta anche sui termosifoni, direttamente nelle case di tutti i cittadini. E' questa la decisione del Ministero della Transizione Ecologica per ridurre gli effetti della corsa del prezzo del gas. Come si legge nel Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi del Gas Naturale, redatto dal MIT, si tratta di una misura per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione dei flussi della Russia. Queste misure, prosegue il documento, sono necessarie per mantenere adeguati gli standard di sicurezza e preservare le riserve disponibili in attesa che siano pienamente operativi nuovi canali di importazione di gas. Ad Arezzo, secondo la classificazione in zone climatiche previste nel nostro paese, potremmo accendere il riscaldamento soltanto dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore, quindi un'ora in meno al giorno con l'accensione posticipata di una settimana e con lo spegnimento anticipato di altri 7 giorni. Ma non è finita qui perché sarà necessario abbassare di un grado la temperatura nelle nostre case, raggiungendo al massimo 19 gradi, 17 sarà invece il tetto massimo, consentito per edifici industriali e artigianali. Il provvedimento non coinvolgerà ospedali e casi di ricovero, ma riguarderà soltanto condomini e abitazioni private.